Siamo qui al MIR di Rimini 2019, Fotonia e JVC Kenwood allo stand JVC Kenwood per mostrarvi come abbiamo dato come Fotonia risposta a un'esigenza piuttosto comune che però esiste anche qui in fiera, cioè quella di far risaltare la modella e la moto con un sistema a tre luci. Abbiamo impiegato tre proiettori Fresnel, Fotonia, due sono sopra di noi e uno accoppiato ad un softbox ci sta illuminando in modo morbido. Fotonia è una realtà bolognese quindi tutto made in Italy, è una realtà emergente, noi produciamo proiettori Fresnel LED di altissima qualità con un CRI intorno al 96-97 anche TLC. Abbiamo caratteristiche che sono non proprio comuni e molto specifiche, soprattutto ci rivolgiamo al mercato cinematografico, al teatro ma anche ai videomakers, ai fotografi e anche allo spettacolo. In particolare abbiamo caratteristiche che ci contraddistinguono dalla massa come il fuoco motorizzato e la possibilità di andare a batteria. questo e molto altro lo scoprirete sui nostri canali social, seguiteci e a presto!